Tutto a fondo più che mai è la Kermess più prestigiosa, professionisti, addette ai lavori, ma soprattutto buyers che vengono da tutto il mondo per portare il nostro patrimonio in tutti i continenti. Quale miglior vetrina in questo contesto, in questo ambiente per incontrare i nostri distributori storici? È un appuntamento importante, è una vetrina internazionale, è un momento di incontro, di pubbliche relazioni con i nostri clienti e buyers internazionali. Ad oggi mi pare che i risultati siano più che positivi. I segnali di questa edizione sono ottimi, c'è un'agenda molto fitta, come si dice in francese, sa van sans dire. Credo che ieri abbiamo raggiunto i 1200 ingressi nel nostro stand e oggi stiamo sfiorando il migliaio. Dal nostro punto di vista oggettivamente è eccezionale. Grazie. 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 Grazie.